Bene, oggi allora festeggiamo questo momento importante di Ticata Maria, con la Messa Maria della Consolazione. È un momento importante proprio perché Maria è riconosciuta come nostra madre nella fede e questi paesi hanno una tradizione molto forte, molto radicata. Dunque, un momento che diventa significativo nella fede e anche proprio nell'aggregazione sociale.